Perdonatemi, sono state queste secondo gli investigatori le ultime parole di Francesca Bellocco, uccisa dal figlio Francesco Barone perché intratteneva una relazione extraconiugale con Domenico Cacciola. L'arresto del 22enne di Rosarno, dopo un anno e mezzo di indagini, evidenzia ancora una volta la crudeltà dell'andrangheta che arma la mano di un figlio contro la madre. Le attività investigative coordinate dalla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria hanno consentito alla Polizia di Stato e ai Carabinieri di eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Fondamentale per l'arresto odierno la testimonianza di un vigile urbano della città della Piana, che con un estremo senso civico e di giustizia ha riferito alle forze dell'ordine quanto visto il 18 agosto 2013. Barone, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, è stato sottolineato in conferenza stampa, rientrato in casa, in tarda notte avrebbe scoperto la madre con l'amante e avrebbe organizzato l'agguato mortale. Accompagnato da altri due uomini incappucciati, avrebbe compiuto il delitto e poi fatto sparire il corpo. Ad oggi nessuno ha denunciato la scomparsa di Domenico Cacciola. Il procuratore Federico Caffiero Derao ha sottolineato due aspetti rilevanti dell'operazione odierna, la vittoria della macchina dello Stato, ovvero la sinergia tra polizia e carabinieri e la moralità del testimonio oculare, un calabrese che ha rotto il muro di omertà per iniziare a costruire una Calabria migliore ripulita dallo squallore della criminalità organizzata.